Un saluto dal Tg della Mobilità Massimina, partirà il 4 settembre la sperimentazione del bus a chiamata, gli utenti potranno utilizzarlo gratuitamente 7 giorni su 7 dalle 5.30 a mezzanotte anche nei festivi sia per gli spostamenti nel quartiere sia in arrivo e in direzione della stazione FS Aurelia. Il nuovo servizio andrà a coprire alcune zone del quartiere dove i bus di linea non transitano, un passaggio che invece potrà essere garantito dalle vetture a richiesta con capacità di 8 posti e predisposte per il trasporto di una carrozzina in caso di passeggeri a ridotta capacità motoria. Il servizio è gestito da ATAC, tutti i dettagli e le modalità di prenotazione e utilizzo sono su romamobilita.it. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.